Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come scaricare Counter Strike 2 Ovviamente Counter Strike 2 è uscito, finalmente è uscito, potete scaricarlo direttamente su Steam, ovviamente per chi non ha mai scaricato Steam In descrizione ti ho lasciato un link per scaricare Steam, installa Steam, file to account Steam, file login E vai sul negozio e scrivi direttamente Counter Strike 2 Ed eccolo qua, ci clicchi sopra e lo scarichi senza problemi Io lo sto scaricando e come puoi vedere appena finisce di scaricare non farò altro che giocarci e vedere com'è Quindi se questo video ti è stato utilissimo su come scaricare e installare il nuovo Counter Strike 2 Che è appena uscito, un lancio globale e quindi grazie a tutti per questa visione Iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao